25 novembre, la prima Santa Caterina, la vera Santa Caterina, conosciuta in tutto il mondo, venerata dappertutto, rappresentata da innumerevoli immagini che la ritraggono con la immancabile ruota dentata che fu lo strumento del suo martirio. Noi sappiamo che esiste Santa Caterina da Siena, Santa Caterina da Genova, Santa Caterina da Bologna, però tutte queste sante Caterine, le altre sante Caterine, c'è pure Santa Caterina Drexel ed altri, prendono nome da questa santa martire morta ad Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto era la grande città nel nord dell'Egitto, la capitale dell'Egitto ellenistico, la città fondata da Alessandro Magno, famosa per la sua biblioteca che era la più grande del mondo. Nell'anno 287 Massimino Dacia, che poi sarebbe diventato imperatore, visitò come luogotenente dell'imperatore la città di Alessandria e si fecero dei festeggiamenti. E questi festeggiamenti prevedevano dei sacrifici agli dei falsi e bugiardi, dei riti magici e spiritistici. Caterina, naturalmente invitata a fare questi riti, apparteneva alla nobiltà. Qualcuno dice che era anche di sangue reale, qualche volta la rappresentano con la corona anche. Ma ella in ogni modo si rifiutò di compiere questi sacrifici. Era di una straordinaria bellezza per cui Massimino Dacia addirittura si innamorò di lei e la voleva prendere prima come concubina e poi come sposa. Lei ancora si rifiutò e quindi fu condannata a questo supplizio terribile di essere maggiullata dai denti di questa ruota e dopo fu anche decapitata. Il suo corpo fu portato, secondo la tradizione, dagli angeli, ma comunque è sicuro che fu portato sul Monte Sinai e lì è stato costruito il celeberrimo Monastero Ortolosso di Santa Caterina. Io l'ho visitato quando andai la prima volta in Terra Santa nel 1994 dove è custodito uno dei ritratti icona più belli di Gesù. Quella icona che rappresenta Cristo con una parte del viso amabile e misericordioso una parte del viso invece come lo vedremo nel giorno del giudizio cioè che ci rinfaccia e ci giudica. Ci rinfaccerà le mancanze d'amore e ci metterà di fronte alle mancanze d'amore che avremmo avuto, ai peccati di questa vita. Santa Caterina è, secondo la tradizione, una santa anche molto presente con le apparizioni nella vita della Chiesa. Ne ricordo due. Santa Giovanna d'Arco testimoniò che lei sentiva la voce che aveva visto Santa Caterina e quindi questa voce la spinse a combattere per gli eserciti della Francia contro gli inglesi e anche quando ci fu il miracolo dell'apparizione del ritratto di San Domenico in Soriano il monaco che ricevette questo ritratto disse di vedere accanto al ritratto cioè tra le sante che glielo avevano consegnato Santa Caterina d'Alessandria e Santa Maria Maddalena. Il motivo vero di tanto successo, di tanta devozione, di tanto amore verso questa santa è misterioso. Probabilmente è nascosto nel cuore di Dio ma noi sappiamo che quando un vaso è pieno trabocca probabilmente il suo amore e la sua santità verso Dio erano così, sono così sovrabbondanti che Dio dispone nella sua onnipotenza, nella sua sapienza, nella sua provvidenza che i cristiani se ne accorgano e sentano particolarmente la sua intercessione. Santa Caterina d'Alessandria prega per la Chiesa prega per il mondo intero prega per la pace.